Tecnicamente è la streamer mod Molto silenzioso Sì infatti non capisco Probabilmente Ah perché ho tolto l'audio Ho tolto l'audio del Come si dice Della lobby iniziale Quindi non sentite per questo Adesso appena entriamo in partita c'è Appena si logga C'è tutto quanto Comunque in questo mese voi come sta andando? Cosa avete fatto di bello? C'è vacanze Compiti delle vacanze Lavori delle vacanze Ma proprio ora devi fare live Ma fregatore sono tornato dopo un mese Dai sì Dopo ti va un po' di Apex Allora Apex mi sta facendo gola ultimamente Gioco di più a Valorant Più a League of Legends Apex mi sta facendo Un po' di gola Non lo so vedrò Vedrò se tornerà Faze Leo Potrebbe tornare Faze Leo Non è detto Non è detto Vedremo Aspetta due secondi Tac Non utilizzare Andiamo qui Ok Tac Ogni due per uno dovrò Altabbare Però continua a fare così Ah Una vacanza Di genitori scozzesi Io adesso Allora Farò una vacanza a Firenze Verso settembre Penso E se giochi Apex Ti porto a giocare con Cypher Ma Cypher mi fa il culo Non è ai miei livelli Cioè io Sono arrivato massimo diamante Due Non sono certo da master E predator Cioè qualche volta Si può fare qualche live assieme Però letteralmente Sono io che corro dietro Facendo Haha Dov'è il loot? Lo tiro su Che bello il loot Oh si avete appena Unciso 43 persone Io ho trovato Un sasso rotondo Queste sono le mie partite Su Rust Cioè su Su Apex Con la gente forte Quando ho giocato con Mox Avevo un sacco di sassi rotondi Capiamoci Ero proprio Il bambino Scemo Che li segue Non capendo un cazzo Di ciò che succede No Lucy Lucy tra parentesi Anche lei è nel mio stesso network Ecco Lucy è più sul mio livello Penso che Potrei giocare più una partita Con Lucy Che con Cypher Non mi ricordo mai Riva com'è che si pronuncia Cy 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 Boh Sì su Valorant Torniamo a fare live sicuro Su Valorant Sicuro 100-100 Anche uno di questi giorni qua Senza Senza problemi Con Dada Mi ha ucciso James Leo Ok Tata Questa è la nostra base Non l'ho fatta io Specifichiamo Non l'ho fatta io Perché è un Dis Pendioso C'è qui i propri materiali A A go go Che se ne sono andati Oh no I nomi da streamer I nomi da streamer Chi cazzo è Cam Che cazzo è Cam Perché allora È la modalità streamer In cui cambia tutti i nomi Toglierla Ma sì dai La tolgo La tolgo Ha ha Che si è morto Ok c'è Gianco C'è tutto Ok Aspetta fammi andare Sul discord con loro Abba presuggiarti le cure E ti arriva il tipo Ho voluto abba aperto Ha ha Che si è morto Una Sono morto 47 volte Camminiamo nel bosco Porco Due nel bosco Esce fuori Da dietro a un funghetto Un tipo alle spalle Me lasera Vado per salire sul boiler Chi è che ha tutta la cloth Chi è che ha tutta la cloth Chi è che mi ha rubato la radio Raga la cloth dov'è Si è rimasta 100 di cloth Ah raft Stiamo aspettando l'aggiornamento Perché lo portiamo quando si aggiorna Con emerald E con fieri che bertela Perché finché non ci sono aggiornamenti E' uguale il gioco Quindi Lo aggiornano molto poco Appena lo aggiornano super volentieri Sarà la prima cosa che portiamo Perché lo aspettiamo sempre anche noi Però Si aspetta C'era tipo 500 Ah Posso prendere un semi automatico L'abbiamo imparato? Boh non lo so Io non lo so Prendi prendi Leo Prendo? Ok Leo 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 L'abbiamo imparato quindi? Boh Vabbè ma tanto È un semi lo trovi C'è più che altro abbiamo anche la K Quindi Poco senso a Problema Problema Non lo voglio provare a tornare Per vedere se L'avevo pure ucciso Dentro la metro Con il bolt Vabbè mangiando come È colpa di Leo Come sempre Non è che adesso Adesso deve addosso Dove sei che Dove sei che Adesso vengo con la radio E ti ammazzo 10 10 Guarda Fammi craftare Tre spiare Ci sono Ah È proprio lui L'nbp Che sta craftando Andre? Eh sì Provo a fare i kit Che posso fare Cosa serve? Ho ucciso tipo Quella LR Me la riprendo Suka Maledetto Sto arrivando Non c'è la klut Vedete 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 Quando è in live Sua è tutto Tranquillo Così Felice Adesso è tutto È tutto Suka Bastardo Coglione Madonna Tossico Ti servono? Sì ma C'ho baggate C'ho baggate le cose In che senso? Ah zì non mi fa fare i pantaloni Ce li ho baggati Boh Ma il raid siete voi? Come se non li avessi imparati Ma li ho imparati È il momento di tirar fuori le spie Leo Ah ho già C'ho il Il semi Tu lo sai Casey Io sto andando A aiuto a Nova E dove è Nova? Vieni 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 Beh poi ci sono i pantaloni comunque nel caso Ti sai che sì? Non sta arrivando Sono un quadrante e mezzo Non sei tu l'MP5 è vero? Sì 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 c'ho anche l'MP5 A me sarebbe da tu che sparavi A cercare No Sì prima sì Prima sì Prima sì Prima sì Abbiamo finita tutta Questa Questa fermi Non c'è più klut boys Tocca farlo allora Mi sa che devo farlo così e basta C'è un kit riesco a fare In che situazione siete Casey? Ah ma tra l'altro c'hanno la base lì Questi si formavano all'infinito Eh sì Dove sei mo? Tu 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 Cioè guarda che rilassoso La pioggia Una passeggiata con un fucile Questa è tutto bello rilassante Cioè vedi che Rust Vedi Rust che bello che è Che bello che è Sei proprio rilassato Ragazzi Se volete un gioco Dove rilassarvi Tranquillamente Rust Ve lo consiglio Non proverete zero frustrazione Zero Zero proprio Malessere interiore È totalmente rilassante Totalmente Manca solo la musica lo fai Cioè vedete che bello che è Mamma mia Non è che da un momento all'altro Potrebbe esserci qualcuno Che vi spara nei denti Porca puttana Il mio tempismo di merda Porca puttana Il mio tempismo di merda Ma Dio santo Ma porco cane Ma che cazzo Devo riprendere un po' la mano eh Ma porca puttana Ma 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 Dio santo Che storia Penso che Sì Getro E sono anche già morto Ma che palle di tempismo di merda Ma io vado in giro solo con la mia spiar Gianco davanti a te C'è uno con l'MP5 Che mi ha ucciso nel bosco Sulla strada È proprio davanti a te Sì È davanti a te Un po' sulla tua sinistra Dritto per dritto Alla macchina Alla macchina Mi chiamo? Non lo vedo Abbiamo ripreso tre un P5 E un LR Era tipo qua la macchina Oh vini qua dentro Vini qua dentro Orco due Cosa? Era qua Suka Vini vini Guarda quanta roba aveva Ti prego Vini Guarda quanta roba Eh vabbè ha preso tutto Penso che sia della casa Attimo riga Morto morto era naked Eh Merda Sto buttandovi altre roba inutile Aspettate Oh my god Oh mi ha colpito Mi ha colpito Mi ha colpito Morto morto Eh provo ad andare lì da loro Occhio Certo camminare Certo camminare Tre Due Vini qua dietro Vini qua dietro Vini qua dietro Ok bro thanks Quanti sono? Aspetta Aspetta Non so dove sia la mia arma Le hai preso te Ti credo te in terra Ti credo te in terra Non la trovo Non la trovo Non so se posso entrare Per le radiazioni C'è uno qua c'è uno Gianco davanti a noi Lì Qua davanti sul muretto Lo vedi Spara Due 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 Sono due Ho fatto uno raga Niente dietro il muretto Qui a nord Al muretto qua Il muretto qui Lo sta restando Lo sta restando dietro il muro Quanti sono? Uno due Due Sono due Da me rega Venite qua Troppo roba Qua dietro il muro Sono up Sono up Ti dico se scappano Ok se ne stanno andando Sono ancora al muro Sono ancora qua Sono ancora qua Uno se ne sta andando nel bosco Uno è andato via L'altro è ancora qua su di me Sono andati via Stanno scappando Ok uno Un ucciso Ti dico se torna l'altro Non pare voler tornare Ok Vieni verso di me Adapetta senti 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 Fetta ferrofine Eh non so se ce la facciamo No infatti sono andato Scappato Sono morto Stai morti tutti raga? Sì Siamo a sabbia Ok io sono solo qua Però serve una mano Ho troppa roba addosso Sta arrivando Sta arrivando 8 kit ho ricoprato Oh Mi stanno perso Stai arrivando 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 Liviamo 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 Poi su tutto qua Qua c'è un'altra roba di ferro Prendi se riesci Gianco posso lootarti? Sì sì prendi Leo Viva Liviamo Liviamo Troppa roba Troppo roba Troppo Via 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 Ti sei? Andiamo Andiamo Dove sei? Vieni qua Dove sei scelto? Prendi tutto Leo Sì 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 spostami giusto Non ho visto che sei scelto così Ecco di qua Qua dovrebbe essere Andiamo a largo Andiamo a largo Eh lo so lo so Stai arrivando io Stai arrivando io A salutare me Gianco Chi c'era Dentro Vieni via via Io devo andare a casa Vieni via via Devi scortarmi a casa Troppa roba Ma hanno già lootato Gianco? Non lo so Non so Ce l'ho dietro la roccia L'ho dietro una rocetta Leo Eh sì Ti hanno salutato Occhio Sono morto bro Sto sparando Aspetta Lei arrivo da dietro Nova? Aspetta Aspetta Qual è il posto? Andato uno? Ce n'è un altro? Andato anche l'altro? Ok sono restabile Leo se riesci Dove sei casi? Mettela Mettela Ho detto Dov'è che Non lo vedo Ma lo ho restato Ok Ma lui c'è? Sì 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 Ci sono Ti resto casi Luttate Luttate Andiamo a casa Sì sì Alla base qui Alla base qui loro Quindi ritorno Ok ho lottato I due li ho lottati Possiamo andare Via 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 Avete ripreso Un tipo qua Morto Ucciso Andiamo andiamo Nice Dammi da magna Dammi da magna Dammi da magna Questo era il tipo Nova? No era mezzo unuto Qui davanti Quanto mi mancava Rust Quanto mi mancava Mamma mia Stava facendo Full band Questo Andiamo 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 E' Prontano Non era morto Io dico solo che Ho troppi kit addosso Ragazzi Sono messi Quelli della base S18 Comunque Probabile Questi sarebbero La raga Più mi vorrai Meno mi vorrai Comunque grazie a Dio Che si Ti sta ascoltando Che si è stato tutto Grazie a Dio Si è riuscito Sare Nere Gigi e Leo comunque Anche per la doppia Le abbiamo ciucciati tutti Ma grazie a Dio Che Ma Nova Grazie a Dio Che Casey aveva ucciso Il tipo dietro il muro Perché ho lutato lui Col suo mp5 E l'unico caricatore Che aveva Ho fatto i due Se torniamo a casa Ho fatto il comeback totale Con mp5 Prima che ne sono tornato A posto A posto Ho preso l'r Ho preso l'r Ho preso gli altri Con l'r Ho fatto Vabbè E poi è arrivato No 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 Io non colto niente Non è tiro Chat Chat Voto della foresta Ad aver sparato i due Cioè dai Dai Almeno un minimo Sono stato bravo lì Non saltatevi sulla testa Almeno un minimo Sono stato bravo Dai Cioè Poco 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 Almeno tre Ok va bene Tre mi basta Tre mi basta Coltellato Eh non ho visto Eh ho poca vita Hai tirato tipo tre Tre coltellate Incazzatissimo Però quanta roba Aveva tipo dentro Comunque Era una cassaforte Ma quanta roba Avete portato Troppa Troppa Abbiamo tipo Io ho quattro kit Almeno in inventario Buono Sì sì Avete recuperato almeno Un bolt Che avevo portato No i bolt Non li ho presi I bolt Ne ho presi Ne bolt Neanche io ne ho visti Tu sei bellissimo Chris Cazzo Tu sei bellissimo Se mi vedi Super Saiyan Mi editi il video Facciamo di nuovo Lo rifacciamo C'è un po' di cotto Comunque Non so se loro sono andati a scapparlo A cosa Ma Oh Chi spara? Chi è l'elicotterino sopra? Chi è l'elicotterino sopra? Ah ok Perché non ci dà il No è nostro È nostro Ah adesso sono apparsi Eh perché se ce li hai Proprio sopra Sopra la testa Ma io sono un coglione Non ho messo il TC Però qua dentro Eh più sarò con te L'audio tuo è un po' brutto In che senso chat? Ho l'audio che non va? Di nuovo? Abbiamo casse libere Ah non ho rotto l'elicottero Ma Abbiamo una cassa free? Eh Riusciamo a liberare Butto via sta roba La butto via sta roba di legno Scusate No aspetta no Ti prendo una cassa libera Vai cassa libera Metto questo qui Ok te la porto su Porto su Porto su la piazza Ok Ci serviva il cloth Ed è stato fatto Posso Metti Da qualche parte Dove trovi spazio Un po' fatto a cavolo Qui però Bisogna mettere a posto Bisogna mettere a posto Guarda qua Guarda qui Guarda qua Madonna Justo un po' di roba Dov'è nuova il loot? Sopra? Aspetta che voglio Vederelo anch'io Aspetta mi Mi fullo di Dove è la pasta De Azmatteri Eh quella piccola Davanti ai kit Questa qua Questa qua Ho trovato sta roba Beh direi che Hai fatto Ho trovato Mi fullo di ferro A sto punto De ferro De ferro De vero Per ferro e freddo Ma brucia quando De manna all'inferno Secondo me poi sarebbe Da fare poi la casa La casa grossa Una domandissima Voi che ne sapete Un po' di più Cioè un po' tanto Di più in realtà Veramente Tanti Dove converrebbe Cioè io La mia idea era Tipo prendere una zona Razzando i figli di puttana E conquistandola Come se fossimo Tipo la Germania R13 Sarebbe un buon punto Dove farla R13 Landsight Seaware Water Trainyard Ok S9 S9 Già preso sicuro In realtà In realtà Secondo me L12 Ora che abbiamo tutto È inutile In realtà ora Potremmo buildare Dove cazzo vogliamo Perché abbiamo tutto Beh effettivamente Quello è vero Le risorse le vai a farmare Colmini Se proprio vuoi Ti butti nella neve Vai a farmare Come un drago In questo tattico Ragazzi Dove stiamo Stiamo Ormai Cioè alla fine La posizione serve per lo start Poi alla festa Mettiamo un po' di moseca Una volta che siamo sexy Stica Allora easy A posto A posto Allora Qua Siamo NERC Una roba che Appunto Io dicevo Magari R13 O L11 Perché c'è più gente Che gira Vabbè Non si allontani Dal mid map Oh Mi piace Questa musica È la radio Che ho rubato L'ho rubata io Sta radio Yeah Tu fai un po' Sta musica Guarda le cose Sta qua era da portare Mentre fightavamo Hai capito? C'è il guerriero a posto È da prendere qualcuno Tipo dalla chat Che ci segue nudo Con la radio E la tiene su tutto il tempo Vediamo la ninja Interride Amoleo Eh ci sta Fantastica Il problema è che Non puoi metterla per terra È l'unica cosa Ma come una scusa? Prima c'era la base Con la musica per Mattia Per la scorsa volta Eh sarà stato qualcuno Afka Che ce l'aveva in mano Dove è la casa Delle Armi Cioè delle Delle equip Che lo metto dentro È giù Metal wood Gun Armor Qui Adesso Dove è la mia tromba? Non c'è nulla È vuota La mia tromba? È in alto a destra La cassa delle Ah è qui che trova 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 Sto mettendo La cassa Del ladro Che può fare il bolt? Ok È il mio trombone? Non l'avrò imparato Penso Andre forse Andre hai imparato tu Il bolt? Mi hanno rubato il trombone Il bolt ce l'ha Marcolino forse No Marcolino Il bolt Marcoli Marcolino è fuori Marcolino è fuori Mi ero dimenticato che dovevo Arrivo subito Chi mi schiena l'LR Io ti metto una skin bellissima Guarda Adesso no Ho paura Bellissima Bellissima No no bellissima Eh Eh Mettilo Mettilo Vai Ahà Bella di troppo Sar skin per l'MP5 Noio Guarda se ho qualche skin Thompson forse Ho da skinnare No L'SMG Ho da skinnare Tra parentesi Ci sono tutte le skin Dei drop Che non ho mai visto Devo ancora utilizzarle io Volete l'hollo raga Io ce l'ho Ma io apposta Aspetta che crafto un po' De siringhe Tipo tantissime Vai Craftane un fracco Brother Se abbiamo degli scrap Le imparo pure io Sopra ce ne sono mille Ah Apposto Le imparo Ma 30 siringhe Le altre 30 Le farai tu fratello Dai Dov'è di armi Vediamo il tempo Velocizziamo il crafting E ci dobbiamo di più Porca troio Facciamo vaccino Allora Quante vaccini C'è stata vaccini No no Vaccino no Vaccino no Vaccino sì Invece Vaccino sì È bello Vaccino Che fate voi ragazzi A ferragosto Esco con degli amici A grigliare Faccio il novax Ah Ci sta Una scelta di vita Però Però solo per agosto Sì sì C'è mille di gunpowder Sopra 3000 di gunpowder Quanta gunpowder abbiamo Un poco Orco Comunque c'è Rakesic Volevo farti vedere una cosa Non so se si sente Anche dagli altri Quindi devi farmi da Così c'è Da prova Due secondi Cosa Una tattica per Door camperare le porte Devo vedere se funziona Che tattica è Aspetta aspetta Tac Ok Allora Devi dirmi Se adesso senti Il trombone Che adesso Fra un attimo Se senti che se il suono Continua ad andare Vai Sì Il suono continua ad andare Sì Posso fare due strumenti assieme Posso fingere di essere due persone Vabbè Può essere usata in qualche modo Questa tattica Fidati di me Quando tu mi Quando ci sarà uno Che mi ride Faccio Guarda che qua dentro Siamo in più di uno Senti Vedi quanti strumenti siamo Almeno in due Devo avere il modo Per fare un strumento Non era meno 5-6 Secondo me Vabbia Così sarebbe bellissimo One man band Oh ma c'è il crafting Velocizzato Ho già fatto tutti i meds Che brutta la notte Su sto gioco Me l'ero dimenticata C'era un pipe Nella cassa dei meds Ma vedi cosa serve Serve per testare Se i meds funzionano No Secondo me La roba lì Che posso suonare Tutti Cioè Strumenti assieme È perché ho fatto Il conservatorio Ci diamo tutti Via 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 Formazione Insetto Pallena Prendi la radio Abbiamo ragazzi Tutta formazione Insetto Pallena Per favore Qualcuno Prende la radio Scabum Dixero Dov'è? R19 Quella lì Che diceva Janko R18 Forse è T17 Che c'è uno shop Oh vedo le esplosioni È tipo S19 È quella Che diceva Janko Allora raga Che lo uccidevano Janko Janky Eh mi sa che Afk Janko 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 ho fatto nane Janko sei un insetto Pallena Janko ho fatto di nane Non c'è Quanti ragazzi hanno tirato Qual è che hanno Quella Quella al 20 No è impossibile No no Più avanti Più avanti Ti dici a sette Nel bosco Sì 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 Vabbè Fammi spegnere le luci Che Almeno questa Si Vuoi essere Ma li faccio vedere io Chi ha lo spray più solido Ti ho il trombone Può essere Che storia Grazie mille Ho visto che l'hai fatto Mentre non eravamo in live l'abbonamento Grazie mille bentornato Mi sa fratello Ti ho detto che era la T17 O era questa forse No guardala lassù Come le scime ragazzi Formazione macaco Formazione macaco gigante ragazzi Formazione macaco gigante De Brasile Ma andiamolo in Brasile Ammazziamo quello dietro al ruolo Dobbiamo più a questo L'attenale macaco gigante L'ha mossa davanti Ci ha visto cazzo Ci ha visto C'ha visto quello dal tetto Quello dal tetto sì Tetto sinistra o destra non ho capito Tetto sinistra bro Lo vedi là Hit doppia No one hit Eh non lo vedo io Qua abbiamo un MP5 close a regola Eccolo Morto Oh merda Oh merda Oh merda Oh merda Edshot ha quello sul tetto Bravo bravo Ora lo picco Baccacca Hai fatto l'MP5 qua Che sì Quello sul tetto Un attimo che non ho vision Ah gli manca la porta d'ingresso Sto facendo il giro per prenderlo di lato Sto facendo male Aiaia Due hit Tre headshot Hit Morto? Non lo so La porta d'ingresso l'ho aperta raga Ma me butto dentro Poi uno sta salendo sulla scala Bravo macaco Sto hittato eh Qua c'è un altro Non so se è morto però Provo a sedere io Preghiamo qua si riesce Penso Eh sono dentro penso eh Mini? Non siamo noi mini beh No Non so dire no 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 Non siamo noi Io sono sul tetto eh Io sono sul tetto Si può entrare da sopra? Sì sì c'è la porta aperta Però appunto Penso di sì Penso che ci stiamo camperando l'entrata Dov'è? Dal muro dal muro dal muro Ah fuck Mi potete resa eh Mi potete resa E io? Sono bello lui Stai dietro stai dietro Stai dietro Che è successo? Mi sono di nuovo Ma caco E' dietro al muro eh Che sì Non ho allarme Non so dove è finita Io provo a cadere Sopra è troppo rischioso Non ho torcia Vuoi la mia? No no tranquillo Mi la trovo ti serve luce casi l'arma veri morto è trovata ma niente fatto troppa luce occhio che si che arrivano sono qua vicino a te si riesce a lutarmi a tirarmi su c'è la mia arma per terra pensa sulla sinistra non vedo la tua arma ha senso venirci ragazzi s'hanno visto no non ho l'arma non voglio vedere quanto l'avevo fatto sul tetto ma hai suonato la tromba veramente ho sbagliato dio buono devo buttarmi di sotto prendere l'arma e ammazzarli non ce la farò mai eh fuck io e Nova stiamo arrivando eh anche io provo a venire ha senso venire o no? quanti sono? boh c'è un po' di ak se riusciamo a cederne che ti falle la notte l'arma che si infila là sopra torniamo aspettiamo 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 porco tu è sopralonico mi è infilata l'arma ma che ti pare? ti sembra giusto? io ho trovato un minicottero in mezzo alla a cazzo di cane se qualcuno ha il fuel a t18 non c'ho il fuel ma dov'è? t18? t18 proprio sotto eh non c'ho il fuel raga ma torno come un macaco giganto eh lo dico prendi dei barili barili al volo eh non ce ne sono qua come un macaco? torno incassato come un macaco giganto che sta rafficando? arrivate? prendo della ho trovato il mio corpo ora c'è ancora vivo? nooo si si sono vivo ma sono nudo ok ho trovato il mio corpo mi tocco il pipo ma c'è qua? ma che vale? è finita l'arma sul cazzo di onicom ma davvero? ti giuro ti giuro perché ero sulle scalette sono morto sono caduto a terra e l'arma è finita sopra ma porca troia tra l'altro la vedevo saltavo ma non me la faceva vabbè ma stai trollando orso de merda che ha messo sta paletta? ah sei tu col puttana eva mi sono cagato sotto eh mi ha aggancato il macaco giganto io sono tipo nudo a fianco a loro e non mi hanno visto non so com'è possibile è una scaletta che è salita in cima si è una cappa occhio scopali tutti è russando giancone non temere è sul tetto il macaco macaco giganti macaco giganto ho anche un bel visore notturno oh cazzo ma è il visore notturno? si si stanno fightando tra di loro raga c'è altra gente quanti sono voi? li vedo sono troppi davanti a me sono no 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 sono veramente mille sono qui dove ho pingato ah è fagiorno oh no fagiorno e sono vicino a lui deve essere un problema questo leo ma porco cane ma è mezz'ora che cerco sta arma e lui arriva e la trova per terra ma vaffanculo ucciso 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 uno ahhhh fermi help qui help qui venite a me please c'è tu con il flashlight no va? no 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 spara che non ho flashlight attivo l'ho spento così mi riconosci uno devastato è full loot che storia ma è mezz'ora che cercavo quell'arma passa il nudo di turno stronza me la ruba ma dai botbo grazie mille botblo grazie mille per il prime ma che cazzo di sfiga c'ho? è mezz'ora che guardavo per terra cercando un'arma passo lui e fa oh un mp5 preso ahhhh dietro dietro riga 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 dietro dietro noi dai fanculo io ho fatto una hit l'hai fatto? l'hai fatto dietro? l'avete visto? è volato è dietro torriamo dietro torriamo dietro torriamo dietro troppa gente ma uno l'avevo buttato giù forse l'avevo bollato si uno di quelli l'avevo buttato giù ragazzi ma ok sei si è morto ma l'u? eh io si spiegati le mie armi ma cazzo di te fammi vedere una cosa uno di loro l'avevo buttato giù ragazzi è wounded è uno in fondo sulla roccia che si anche c'è anche un bolt occhio eh si becco becco io il bolt eh ok becco becco mi serve barile rosso sono due sono due oh sei te? barile rosso ditte rocce rocce e muro sono due cani che fastidio oh mi ha fatto pentare andiamo a destra eccolo lo vedo lo vedo eeeh mi curo? è già che è morto eh no 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 sono respawnato c'è uno qua da me due qua da me chesi 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 qua qua su di me chesi su di me uno con la k su di me proprio su su di me gli sono dietro da nudo è qui negli alberi ha una k mi sta sperando qua lo distrago lo distrago lo distrago ok l'ho distratto un po' nova è proprio dove ero morto io con la k ah no un lr chesi 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 aspetta non lo vedo ha beccato io sono dietro eh sono a terra mi ha colpito all'altra distanza quel cicchino che sto sto provando ad arrivare oooh hai alzato il gain sembra che stia quasi clippando eeeh probabilmente ho alzato parlo più piano cioè lo allontano un po' così dovrebbe andare a posto ditemi voi c'è in caso comunque grazie Leo bentornato anche te vede a me che sto si fa? sono cooperato eh niente ho deciso peccato peccato si poteva prendere di sorpresa sto qua ah ho fatto io ho fatto io eravano due ripanninati con c'erano due team tre team sono in due qua c'erano un botto le persone due che stanno andando a casa l'r ho preso vabbè ho preso a k ho recuperato e sono rimorto e vabbè eh vabbè raga Casey già denudato arrivo sto tornando con un mp5 io sono morto sotto eh leo sto di te esattamente sto provando a vedere ma penso che siete tutti belli lootati eh no il tuo cadavere nuovo non lo trovo penso l'abbiano portato penso l'abbiano portato a casa per farci fichi fichi hai visto il mio ping eh? lo vedi? eh non posso vedere il tuo ping è stato restiando perfetto perfetto basta vedere dritto si sparano ancora eh all'auto sinistra io sto tornando con un mp5 questo giro no no vabbè comunque penso che sei il bello che è lootato c'è una barcona lì nella spiaggia dolore non c'è neanche il tuo corpo o te l'hanno scogliato si a me ma è succeduto tutto raga boia oh no sto tornando con un mp5 è l'home a friend è l'home a friend alia alia col combat knife niente c'era quella cazzo di luce del sorgere del sole che madonna è fastidiosissimo ma allora c'è stato Casey e io ero nella notte a cercare l mp5 che mi era caduto e che non avevano preso su sono stato lì a cercare 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 un cazzo arriva la luce del sole passa un nodino se lo trova sotto i piedi me lo prende e mi spara che sfida ha fatto la porca ha fatto la porca puttana è morta una forestina mollu oh c'è uno qua io si ma tanto non avevo nulla io non ho l'ho sull mp5 mannaggia a me non c'avevo una sega vabbè vabbè però contro sole qui non si vede un cazzo eh ma raga ormai hanno preso tutto sono già hanno già bancato ma non è detto dici stavano raidando nooo ha ripreso l'elicotterino non mi sembrava avessero finito se era loro l'elicotterino per scappare eh se l'ha già preso si stanno andando via adesso si sono in due dov'è? ah t-18 sopra gianco va vedere di qua abitano lì? ah abitano la capirai quelli vanno distrutti raga raga questi li raidiamo c'è anche una base de merda easy ride easy ride eh mo vado anche a fa' un pa' di zolfo io c'è ancora gente qua dentro in casa quella che era stata raidata chi è che sta smitagliando? io io ora mi ammazzano dei bolt stanno col bolt sopra fatti si vabbè che sprayata è bocca eh non ho l'olo non riuscirò mai a laserarlo eh non ce l'ho l'olo adatto l'olo 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 stanno distruggendo i letti non capisco cosa si no stanno sparando da casa no no qua la casa questa qua oh un altro raid è un continuo raid raga what the fuck raid into raid into raid 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 penso v-17 ma dentro hanno stilato tutto? qua al si penso di si no no pancuolo vabbè a sto punto già che siamo di strada andiamo la che dici c'è un co? eh tanto let's go let's go let's go to the beach oddio c'è uno con la k c'è uno con la k aspetta che gli sparo gli sparo col sasso in testa uno due ho rubato un kit l'ho preso ma eh c'è fatto comunque ce l'era gente in casa ho trovato un kit di a k per terra cazzo non si sa mai ti gode ah si si è proprio eh si prendete la k che lo sai usare meglio a posto così se te lo da così allora io raga vado a fermare lo zolfo va zolfissimo parmerino conviene prendere il mini e andare in angola tutto tengo andare in angola? angola angola ok perchè io da quella sera non ho fatto più l'amore posto posto e andiamo a fare esplodere cose come si permettono oro andiamo alla cupolante devo andare alla cupolante? alla cupolanzia io mi porto un tommy dov'è che vuoi andare sulla neve a formare zolfen formare zolfen c'era l'isola in x22 ha due basi fornace abbastanza facili da raidare secondo me ed era anche abbastanza essendo lì sull'isoletta nessuno ormai i nostri nemici ce li abbiamo ormai sono loro ok ok devono perire perchè secondo me quella lì è piena di così c'è per mano di unione quelli loot ce l'hanno ce l'hanno loot perchè farmano nel mare quelli quindi non li rompe le balle nessuno e sono pieni di componenti dici? si c'è quelli sull'isoletta lì chi cazzo vanno per le balle mentre farmano in mare oh my god look at this guy guarda i vestiti non troppo vabbè ma sta gente non troppo full tutti ecosostenibili questi noi che andiamo a rub noi rubiamo l'energia madre natura cioè tipo la mia radio non so ancora con che energia funziona va avanti ormai da dal 97 si si ecco la faccia cosa stiamo facendo abbiamo una cioè stiamo facendo qualcosa giriamo a cazzo giriamo letteralmente a cazzo volevamo andare a formare un po' di zolfo adesso ma io vado verso base vedo se incontro i marrani ah quelli li li ho già visti prima hanno delle torrette dentro quali? la base quella grossa laggiù mi avevo tipo mi avevo preso un 100 200 colpi di una c'avevano il semiautomatico dentro butto schifo butto schifo butto schifo butto schifo raga ma il mini che abbiamo sparato è vostro? oh ma questo è il mio mp5 no 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 che no e di scherzo non ho perso niente quindi sto fight c'è uno scienziati c'è uno scienziati c'è uno scienziati? guarda dietro il muro dietro il muro c'è uno scienziato stanno facendo scendere cose raga on my way scienziato piccone arriviamo che ah ma penso che sia la base quella da su che ormai hanno oscillato e la stanno a prendere no 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 più avanti più avanti più avanti? all'otto più avanti io arrivo di spari e prendi e bomba io arrivo di spari e prendo spari pure eh non frega niente a me eh sicuro di bratton andiamo c'è di base entriamo dentro si fa? si fa sdrenum secondo me che lì se le ha inventate le esplosioni le sta facendo lui con la bocca boom boom come il piume è proprio un'esplosione cos'è successo a lord e at che sono morti entrambi? non lo so mi sa che erano loro l'esplosione bro delle mini del minicottero oddio speriamo di no raga napoli 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 satima dauceva forza napoli 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 io sto seguendo Casey Casey sta andando in giro a cazzo di cane eh io vado dove mi porta il cuore vado dove mi porta l'insenza non c'è nessuno dobbiamo dare delle esplosioni eh ma bro ma sparano due satchel e poi smettono ti hai detto fanno i ride a rate a rate cioè si vanno una satchel bellina sta casetta ma tavola la vorrei come casa vacante c'è anche qua raga c'è anche qua raga un po' di zolfine c'è pure qua ma ah si eh vabbè ma nella neve bene o male la trovi ovunque mini 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 eh tu con la cappa puoi sparargli con la vpc qui io guardo e soffro non l'ho hitato nemmeno una volta vabbè andiamo verso casa oh no questo è fottito orso madonna ieri siamo andati con Casinova a prendere un drop era pieno di orsi ma mentre sparavamo gli altri cinque sei orsi eh guarda 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 che sono uscite quelle scimmie dal tetto hit doppia sono ancora là dentro quelle aragoste andiamo a prenderle avete dei colpi grandi per me eh? no erano gli unici che c'erano vabbè ma quelli roof camper ho preso uno in testa no sti qua stanno dentro non fai niente vieni vieni cioè non fai niente sti qua stanno lì dentro e ti guardano perché io non ho colpi bello creso eh io c'ho diciassette colpi tutto mi sa che dobbiamo andare in base oppure la base è da quella direzione proprio ho delle cibarie si gode se vi serve il cibo ditemi che ho un po' di roba ah io sto fottendo tutto dalla dal fiume ah rubi alla natura certo oh è qua sopra sul tetto regà oh 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 ma cos'era un prefile quello? mi ha sparato l'amico da... sto vivo però... per miracolo ma non ho capito dove sei sono alla casa che hanno arrivato ci sta la gente ancora lì sul tetto ah ok ho bisogno di aiuto eh noi siamo tutti belli lontani sto arrivando però ci vuole un attimo Tomson l'ho trovato ok oh i'm gonna die ho bisogno di aiuto orcocane scusate 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 cuore un altro scusatemi non lo faccio più via 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 non lo faccio più scusa scusa abbiamo volito distrutto direi proprio... fuga immediata Ho sparato a uno e ci sono girati in sei Ma quanti sono? Ma ci sono in cinque o sei Ci scopiamo Stanno anche venendo questo il problema Arrivo verso di voi, baitateli, baitateli Casi dove sei? Arrivo, arrivo Eh, sono morto, mi sono trovato tutti in bocca Eh, sei ancora in base, baitarli da me Ma sono una terra loro? Ma che terra? Sì, sì, sono ground, ground Con i miei sedici colpi di semi auto Li facevo un'imboscata, Leo Eh, oddio Ora riesci a fare un colpo in testa ognuno E con dieci colpi ti fai tre kill, quattro Ora vedo quanto dura Un'imboscata nella pineta Io ho l'ultima siringa, cazzo, ho anche poche cure E io ne ho tre Sto aspettando che abbiamo il penino e mi ricopro col cibo Andiamo nel bosco Siamo dei ninja Ah, state veramente andando lì voi? Ma sì, tanto Chesus, tu che stai a fa? Io stavo andando aiutare i ragazzoni Okidoki Ah, se vi sta facendo la base voi, quella Sì, sì Stiamo, stiamo flancando Ma siete sotto voi? Oh, qua davanti, Gianco Ho visto? Arrivo Raggiungo Spappolato Quanti sono, Gianco? Eh, sono tipo tre Prima ero tre Quelli sulla collina Quando abbiamo sparato io e lei Porco, can Facca Eh, non posso neanche lootarti, Gianco No, ma tanto C'ho poco e niente Ti ho regalato un semi-auto C'aveva due di utilizzo Eh, niente, infatti Ero troppo aperto Anche dalla casa sparano Ah, che hanno ricamperato Eh, nevermind Eh, due da sopra Due dalla casa Ah, da dietro Ah, madonna Ero circondato proprio fisso Ah, ma sono ground Tra l'altro Sì, sì, no Sono tutti ground Però sono tanti Stavo postato dalla base Madonna, mi ritiro Spriata della vita Vai, casi Distrailo, distrailo Sono venuto qua dietro No, non era Era la siringa Non era l'MP5 Quanti sono ancora? Di sotto? Il mio sasso Stanno fightando con? Beh Beh, mi sparo Mi hanno sparato intere Ma hanno sparato Ok, non è fattibile come cosa No, stanno fightando tra di loro anche Allora, non era lo stesso gruppo Uno è su di me Uno è su di me qua Sta scendendo verso la casetta È dietro la casetta qua Ok, lo vedo Doppia C'è ancora, c'è ancora C'è ancora Eh, l'ho fatto triple hit È un H È arrivato un HS Sto malissimo È qui ancora Ah, tu sei morto? No, no, so vivo Ok, è sempre lì È sempre lì lui Ok Eh, ma non ho l'olo Porca druiu Cazzo la casa è lontana Andiamo lì di nuovo Doppio Quello l'olo lo scogliavo No, l'olo Aspetta, 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 aspetta Li faccio un flank È lì alla casetta nuova era prima Lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo, lo vedo Li faccio flank Sparate, sparate Devasto Occhio che si dà da dietro Che si dà dietro C'è uno che si dà dietro di te Ucciso? Morto? Morto? C'è ancora un amico dietro la casetta? Dal comp... Sinistra nuova Ucciso Are you dead? Cazzo c'è uno con l'arco dal compound, occhio Sono un pirla Lì stavo... Avevo il cacchio di medici in mano Oddio, odio, odio, odio Che faccio qua? Me lo facevo Lo faccio facile Morto, 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 morto Cosa m'ha ucciso? Cazzo dalla casa Dalla casa Dalla casa Occhio È uno con l'MP5 Oddio, odio Ah, sono loro Sai che mi pucegli amici Dove cazzo è finito questa, gattoni? Mortacci tua Ok Hai ciso quello m'ha ucciso, vero? Sì, sì, l'ho ucciso Ok, sono due Li portare i corpi Un'era dalla casa Occhio con un Thompson Morto, 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 morto Arrivo col Thomas, non arrivo Questo è gattonato via Non so dove cazzo è andato Ma che c'era anche un U2, eh, lì In giro Ecco, sono tutto giro Finghè, sono già finito i tre siringhi Morto, che palle Mi hanno rufcappato alla casa L'U2 è lì però comunque Eh, loro escono tanti dalla casa lì Abitano qui quelli Comunque, io non ci sto credendo Ci sono il tipo C'è l'altro Che mi chiamate Mi giro Eh, ma avevo le siringhe in mano Potevo uccidere tre volte L'ho mirato per tipo tre o quattro secondi Con le siringhe Vabbè, unlucky, unlucky Cioè, l'hai sparato una siringa? Volevi andare a curarlo? No, infatti sto fermando per sparare Eh, vabbè Che bull Fiti, era un babbo Non mi ci fa sparare Near shilling Ho attivato un silenziatore per terra Nel corpo di Afri È stato divertente Aspetta che vado a disseminare bag Come il mio Eh, infatti, eccolo Però, regà È impossibile arrivarci Sempre qualcuno sul tetto No, no Questi ragazzi Ma andiamo a formarli Li raidiamo Hanno Swifti sul tetto Che continua da lì a Sono ridabili questi? Ah, voglio Dici? Sì, li buchiamo fuori Non c'hanno nemmeno le torrette Non c'hanno queste scimmie Li buchi I razi dentro Sayonara Forza Napoli 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 Come si dice Dalle mie parti Aia Però non abbiamo clotte Che storia Ambu Grazie per il quarto mese Bentornato Dopo facciamo un attimo Anche un po' di just chatting È l'ultima magari mezz'oretta Cioè adesso giochiamo ancora Un'oretta così E poi l'ultima mezz'ora Facciamo un po' di just chatting E ci chiacchieriamo Che magari Rust Non può piacere a tutti quanti Lo capisco Quindi facciamo un po' un mix Questa qui Questa qui da Toccando La buchi da qua Sali Ci sarebbe un ecoride Da fare Che è l'ecoride? Nell'is Eh Quello senza le esplosioni Dici proprio Picconi picconi Quindi Sì C'è uno che ha un muro Sbagliato Un ride buono Per l'ambiente Un inquini con lo zulfo Che è inquinante Lo zulfo E c'è uno La sua Andiamo a indagare Faccio un try Con Qualcuno viene a fare Un po' di clotti Ah non c'ha voglia Faccio quest'ultimo try Poi me ne do Poi me ne do Chi è che vedo mai Scusa che vedo il nome Zanzara maledetta Ma punto Ma punto Io non ci sto credendo Io non ci sto credendo Sì Vabbè è una puntura di zanzara Che sarà mai Mi punge la zanzara Guardo il braccio Arriva Swifty Non è vero Nova Nova ero dietro Ho visto che Ti sei fatto sparare L'ho vista la scena Quando ho detto Questa zanzara Era tipo due secondi Nova l'ho vista la scena Ho tirato una sassata a Swifty L'hai mirata Ti sei girato E ti sei fatto uccidere Apposta per il meme Ragazzi è vero C'ho la prova live Chat vero che Nova Chat vero che Nova Ha fatto così Chat confermate Mi si è fatto uccidere Per il meme Sì perché così potevi dire Oh no mi ha ucciso di nuovo Che palle Il tempismo infame Anche te Nova Vedi la mia chat Dice vero Sì sì certo Non sei live Sì che sono live Nova adesso si muta Perché ha detto cose bannabili E cose che non doveva dire Esatto Ma sempre così Andiamo a fare un giro Se mi ripari Un mp5 Volentieri Ah subito Con queste pretese Però io Mamma mia Se vuoi vengo Con una semi automatica No 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 Torno Parfate Allo io Poi io torno Vado a farmare Mi compro Compro un toller Un altro mini Ma dov'hai Stacchi Guarda guarda appena Ha scoperto che sono live Subito via Che c'entra Subito via Ha scoperto che sono le prove Guarda a casa Adesso a Leo Crasherà la live E tornerà nuova Sì sì Stranamente Mi fai anche Quattro siringhe Ogni giorno che ti scopro Sì a voglia Ogni giorno che ti scopro Sei sempre più 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 Non è vero Davvero non mi aspettavo Così Lo vedi tutto pacato Tra il culo Al demonio È cattivissimo no va Non è vero La mia bella divisa gialla Per farmi beccare Come sempre Non sono toxic No prima l'ho sentito Che ti beggavi uno E dicevi Ah coglione Non è vero Mai Mai fatto Sì sì L'ho sentito tutti Ho mai fatto il t-begging Mi ha proprio detto Ah ah Hai preso il cazzo Botte di merda Senta a mani Oh Cito io Non è che No ma c'è Devi anche te Devi un po' prenderteli Le tue responsabilità È un gioco C'è chill È un gioco È un gioco Mamma mia È un gioco Io non capisco perché Vabbè Ma è tutta così È la community di Rust È nova È che È nova Tutti come nova Ti piace la mia Ti piace la mia divisa Da non mi potete vedere Sono nascosto Non Non per nulla Un punto giallo Nella mappa Facilissimo da spottare Eh infatti Stavo per dire Ma nascosto dove esattamente In quale biome Nel deserto Sì 20 euro Vado full Full sasso Contra statito Paypal 20 paypal Arrivano Va bene Andiamo a fare una metro In amicizia Eh non l'ho mai fatta Quindi si può fare Vieni vieni Gianco vuoi venire a farla metro con noi? Eh Non arrivo Ok Cibo non ne abbiamo? Frigo frigo Oh guarda quando sei senza armi C'è tipo dietro Tipo le spalle Oh Lo seguo Nova è una pessima Anche Yuki dice che Nova è una pessima persona Quanto dura la metro? Eh dipende in che zona la prendi Cosa? Chiedevo quanto dura la metro Eh dipende quanta le vuoi fa A dopo A dopo Ciao Nova Dov'è la mia? Eccola qui Tic 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 Oh Gianco Morto da musica Senti che silenzio Morto da ultrasuoni Senti che silenzio Il silenzio dell'oltretomba Quella proprio Ah che bello Rush Che bello Rush Ah chi è che si trova una siringa? Siringa Pop 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 Leonardo Dicami Alla tua sinistra Troverai delle siringhe mediche Do Qual è la sinistra? Non quella Esattamente quella Oh Complimenti Grazie Lei ha raccolto le sue siringhe mediche Hai raccolto delle siringhe da terra Ora hai HIV Utilizza Una volta equipaggiata la siringa medica Utilizza tasto sinistro per usarla Come in tutta ora che te lo ripetono all'infinito Una volta equipaggiata la siringa medica Utilizza tasto sinistro per usarla Andiamo a fare Andiamo a fare devasto Andiamo a fare Una volta equipaggiata la siringa medica Andiamo a fare Spariamo di piu piu Di pistoli No aspetta Laura grazie mille per i bittini Soprò perché tra poco devo andare Ah ok Damn 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 son Damn son No ho mangiato la mia ultima pannocchia Andiamo Leo siamo soltanto noi due Ho mangiato la mia ultima pannocchia Ne troveremo altre Se vuoi nel mentre le posso dare un fungo No È quello dei tuoi piedini? È quello dei tuoi piedini bellissimi? E certo ovviamente Allora sì che lo voglio Non andrei da questa parte qua Che è dove ci sono i tipi che roof camper No? Ovviamente c'era Giorno Però era la fermata più vicino Se no dobbiamo andare all'airfield Eh andiamo qua Ah fuck Eh andiamo all'airfield Ma camminare tanto eh Come gorilla gigante Porco cane eh sì Andiamo a camminare come un gorilla gigante Ah c'è anche l'evento Vicino all'airfield Ero vero E si va E si va E si vola Secondo me è scam l'evento Ma non lo so Magari sono quelle robe che ti danno quelle quattro cose in croce Tipo airdrop Bravo Che se li tengano Andiamo a uccidere mollo Ci sta È mutato Sta giocando È un po' Cioè veramente è un po' C'è un po' Cosa Esprimiti Leo Non aver paura di Di dire ciò che pensi È un po' un uomo di merda Quindi Ragazzi per favore clippate Perché è giusto che lui sappia la verità Mandatelo subito alla clip Nella Nella stream demone Persone Dove Ho sentito passi Eri tu Ero io Sì eri tu Ah ok 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 Sì sì eri tu Dissing Questo è big dissing ragazzi Ma non è vero Non c'è Intanto la mia chat ha già clippato Mi spiace Leo Non è vero Non è vero La mia no E quindi non puoi sapere se ero io Poteva essere un loquendo Un loquendo? Sì Spariamo a mollo E facciamolo un po' L'alien Facciamo spaventare Dovremmo avere il silenziatore Siccome si spaventa di più Dov'è? Qua sto Oh povero mollo L'hanno spaventato E ci ha pensato qualcuno Aspetta andiamo a salvarlo Dove sono? Qua sotto Sotto da me Eh vivo Hai fatto una kill? Hai fatto Oh mio dio Mollu l'ho ucciso Mollu ho provato il sangue Ora non si fermerà più Fratello Mollu Andiamo Andiamo alla metro Andiamo Mollu cattivissimo Noi andiamo a fare Clotu alla metro Clotu alla metro Ci vediamo dopo Ci vediamo dopo Facilo Comunque prima c'è stato un momento Di alto livello Mentre stavamo andando in giro Che c'era la pioggerellina La notte Io mi sono buttato E ho fatto ragazzi Cioè vedete Rust Rust è anche rilassante Cioè guardate che bello Non è una cosa Cioè È sempre di bello Comunque per esserci 150 persone online Cioè girare in giro così tranquilli Vabbè ma la mappa è una 4k Leo è grande Guarda quanto cazzo è grande la mappa Sì quello sì Però Effettivamente ci sono un sacco di quadranti Sarà una persona per quadrante Servono tessere per fare la metro No no Ok Niente metro Basta orsi Basta orsi Sto server qua È full orsi Vediamo se gioco ancora di carino Ma chi è che tira su i vestiti Dalle casse piccole E lascia gli scrap Probabilmente È una persona nuda Sì ma prendigli gli scrap Se sei nudo Probabilmente Non gli importa la ricchezza Ma soltanto Il benessere fisico Cazzo di superficiali di merda Comunque ci sono delle basi in giro Veramente bruttissime Ma obbriose Non ho ancora visto una decente C'è qualcuna dei decente Ok c'è quelle grandi degli zerga Però per il resto Mamma mia Lea secondo te torneranno i tempi del bagabuse Quale bagabuse? Cioè dipende Quale Io sul Twitch Facciamo che facevo scomparire i muri I tempi del bagabuse Ah il bagabuse Eh non lo so Potrebbe essere magari il futuro Ma molto futuro Pensavo bagabuse per le costruzioni Lei ne sapevo un sacco Oh c'è un nudino C'è un nudino sopra Ah ok infatti Non eri tu Il migliore di tutti era Costruire casa nella caverna Can you hear me man? Where are you? Era sopra 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 proprio Stava andando verso Stava andando verso la casetta Si è teletrasportato via fratello Ti dicevo Ti dicevo Il bug più bello Era quello con la cava E la neve Se tu mettevi la macchina della neve sotto Andava a ostruire l'entrata della cava E non potevi entrare ma potevi uscire E il lutto si passava attraverso Cioè non potevano raidarti Perché non potevano entrare Come scendo di metro? Io vado a piedi No che piedi oh Ci mettiamo tutta la vita Dov'è che si prende l'ascensore? Si prende Qui No Vabbè io mi butto Mi interessa Ciao Ciao Casey Anch'io mi butto Eh Vabbè ma lei Amante del pericolo Ma non è andata quelli che sparano qua Accanto a noi È uno solo Presimente sta sparando a un orso Beh è bello grosso sto orso Spara Spara solo lui Cosa fa? Sta sparando a papà orso Può essere Può essere Quanti bot ci sono oltre noi due? Non c'è niente Non dovrebbe esserci Non dovrebbe esserci già qua i bot No sto giù sto giù Mamma mia Abbiamo il sale in the hall Eh No ci so Guarda ti regalo questa Che mi regali? Bella Grazie per te Stanno? Eh non lo so Eh sì Guarda quello vicino Ma scappano? Eh quando sta male sì Quando li fai male scappano Scappano proprio dei proiettili Adora che scopo da sta metro Là in fondo Oh ne ho visto uno Eh uno era scappato Muerto Muerto E come si lootano? Non mi fa prendere il loot a questo Come no? Questo qua cartucciato non me lo fa lootare Eh magari si è bugato un attimo Dagli una spinta Ok ho lootato Ah un martello pneumatico 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 E se beh o matteo pneumatico Ah ah Yo mother fucker Oh mi ci colpica questo Ma ci pushava cattivissimo Eh sì Ti sono triggerati Hanno proprio urlato Che the fuck out Cos'è stato sto rumore? Eh la me... Il trenino che spona Ti faccio vedere dove spona Magari questa serve Non lo so Comunque ha trovato dei proiettili per terra Lasciati Hmm Ah Me puzza Me puzza Sherlock Quindi l'hai trovato? Mi sta dicendo che ha trovato? Tracce di persone Tracce di persone Tracce di persone Di proiettili lasciati e non lottati Magari Non amava la violenza Magari era semplicemente un loco Eh basta Ha finita così C'è andata No Aspetta No No Ci fanno Appena iniziata Fratello Finito A casa Appena iniziata Fratello Sarà così veloce Le casse che ti danno Le casse che ti danno 63 di HQ Ma ne lo stiamo parlando Cioè pure che è bravo Mamma che è bravo Pure che è bravo Ho aperto una porta Ah Hai fatto male Ti ho perso Quella che non dovevi aprire Ti ho perso dove sei? Prendi la porta Ok Dietro di me no? No No arriva il tunnelone Sono al tunnelone Mi si è distrutto il vento Gli occhi nel treno Ma Cazzo devo andare Arriva arriva Non ti preoccupare Arriva arriva Sono di perso io Aspetta Arrivo Fratello Che esi Eh vi state facendo l'evento? No Stiamo facendo la me L'evento vi state facendo Quello di K16 Ho trovato di casi No eravamo alla metro L'evento non l'abbiamo neanche cagato Ma oh merda C'è uno zergone gigantesco Davanti a casa nostra È pieno di gente Perché? Questa è l'esplosione Dicelo Ci stanno ridando? Ci vogliono ridare? Non lo so Però è pieno di gente Penso di sì Sono gherati Ma hanno rocket lanciati sulla schiena? Non lo so Però sono morti Sono morti Sono tipo sei Ma noi non abitiamo in Noi abitiamo dove sono Gianco e gli altri In Q20 Eh lo so Sono lì davanti Sono morti in P20 io Magari passavano di lì per caso Sono diretti verso casa C'è una direzione Facci sapere Facci sapere info In caso facciamo F1 kill Arriviamo E' uno che è il Più veloce della luce Pure che bravo Ho un po' che bus Eh Hafti quella che ci sente fuori Sento Non fai tateli da base Che sennò ci vengono la base Poi ci raidano Eh Che spari Lello che spari Pazzo Lello Ma Lello mortadello? Sì Oh Lello big piece No Quando lei ha fatto Me lo dice E sono sul treno E noi ripartiamo Il treno regionale 7 4 9 2 Proveniente da Milano Porto Garibaldi E diretto a Genova In arrivo al binario 7 A Zevona Allontanarsi dalla linea gialla A Zevona Aspetta che giro facciamo? Non puoi andare un po' più Non puoi andare un po' più veloce Sì sì stavo guardando Più veloce Più veloce Stavo riuscendo Ai momenti bui della mia vita Più veloce Più veloce È molto sicuro Bambini quando andate in metropolitana Mettetevi come me E buttatevi in corso No Così c'era in quella scatoletta Dei colpi di 5.56 Magari a te fanno comodo O hai l'MP5 L'MP5 Io ho ancora pochissimi colpi Mamma mia Ho notato ora Quanti ne hai? 7 E un caricatore Vabbè spray come un drago Ma dove sei tra l'altro? Sopra Vado di coltello No che qua prendo la testata Ero morto Penso Papparapapapau Prossimo lo faccio di Se è Casey Prossimo lo vedo Qui dal treno e faccio Papapapapapa Vai fallo Sai il coraggio Vai Ce n'era uno qua. Vai, 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 fallo, fallo, fallo. Secondo me mori. Io non intervengo, eh. Pa, 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 non mi servono i colpi. Quanti è che ho finito rimasti? 42. Ah. Scemo verda. Non era un mago della balistica, a quanto pare, sto bot. Sì, sì, sono un mago io a schivare. Ah, ma lei è tipo... Cioè, neanche ti sei fermato vicino, ho dovuto farmi tutto il corridoio. Vabbè, certo, dov'è la challenge, sennò? Sto qua era nuova, a sparare. No! Perché era bravo, perché era bravo, cioè, se l'è cavata grigiamente. Per quello, cosa... Cosa hai capito, Kedi? Ma non so, penso a quello che abbiano capito tutte le persone presenti in entrambe le chat. No, 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 ma... Ragazzi, seconda clip, secondo dissing. Io mi faccio un bella cartellino a Leonardo dissing. Ma aspetta, in che senso entrambe le chat? La mia è? La mia? Quella di Casey? Eh. Quel fallito è in live. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Ti faccio... Ti riempio la memoria... Ragazzi, clipate la terza dissing, per cortesia... Vai che ti riempio la memoria. Cioè, pure che è bravo, eh, ma vagabusa. Oh, c'era un Asmat. Lascia la felpa. Vedrai quando invocherai il mio aiuto. Che è? Mi puscia l'insetta, aiutami. Tan 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 tan... Oh, qui c'è un altro treno. Tan tan tan... Vuol dire che è sceso a gente. Eh, che bello usurato. Ah! Sei bene? Sì, sì, sto andando di martello pneumatico. Ma non mi è morito. Tra l'altro qualche colpo te lo posso dare. Quanti ne hai ancora? Zero proprio? Eh, 21. Qualcuno te lo posso dare. No, ma vado di martello pneumatico. Guarda, è un One Hit. Te lo lascio a te, quello. Adesso, sono bloccato. One Hit! Bro, gli ho tirato... Una randellata. Si curano, eh, gli scienziati. Ah, sì? Ah! Sono pazzi, certo, se si ringano. Ho trovato il... Un asciusore. Cos'è che hai trovato un ascensore? Un ascensore. Prendiamoci l'ascensore. Hai il cibo da darmi per curarmi senza usare le siringhe? Ho appena mangiato la mia ultima zucca, fratello. Allora, niente. Vai, vado di siringhe, è buona. Allora. Possiamo adesso? Ah, no, il nostro treno è quello là in fondo. Possiamo adesso arrivare... Guarda che possiamo uscire qua e riciclare, volendo. Dove è che siamo? All'abandoned supermarket. Perché andare fino all'outpost, dove sta l'outpost? Ehi, vabbè. Ma che giro dobbiamo fare? Ah, andiamo al bandit. Andiamo al bandit. Però dobbiamo attraversare gli zergoni... Eh, lì c'era l'evento, mi sa. Bruttoni, eh, sì. Se no usciamo qua, ricicliamo e... Va bene, dai, vabbè. Andiamo al bandit, andiamo al bandit. Andiamo al bandit. Ho un sacco ancora di colpi di... Di bartello pneumatico. Pandora, ragazzi, penso tornerà a settembre. Adesso stiamo vedendo bene. Cos'è Pico Pico P? Per cos'era? Perché? Ok. Stiamo a posto, frate. Tutto bene. Eh, io vorrei non spararli. Se riusciamo a dobbiamo riciclare... E mi trovo gente, preferisco usarli su di loro un martello pneumatico. Piano che sono tanti, lì, te laser, no? Quanti io lo avrei dovuto... Quanti io lo avrei visto... Colpi! Colpi! Lascio la lama. Dove sono? Oh, l'ho visto uno! Non ho schifato abbastanza! Sai che non ho tanti colpi nemmeno io? Tornare a casa sarà bello e divertente, eh? Sì, molto divertente. Perché non abbiamo nemmeno un'uscita vicina della cazzo di metro. Abbiamo anche gente sopra che ci sente? A regola... Dove sei? Dove sei? Dove sei o? 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 Questa... L'unico macaco gigante! C'è un pompa qui, se vuoi. Ma ho bisogno di... Saringhe? No, no, ne ho ancora cinque. Stavo cercando di... Vedere se trovavo band o stoffa per curarmi con quelle prima. Oh, non c'è più niente qua. Senti, fratello macaco gigante, no? Adesso prendiamo un treno, facciamo un'altra stazione e poi arriviamo a Airfield, eh? Ok! Però attento. Ma io ho due colpi... Ho un caricatore e due colpi, bro. Ma dove cazzo voglio andare? Eh, io ho un caricatore e 13 colpi. Ma dove cazzo vogliamo andare, bro? Ma io se dico che bisogna trovare un posto dove risalire con calma, tipo il bandit. Eh, ma il bandit... Dobbiamo fare due stazioni ancora. O corriamo? Vieni. Si può andare dritti per dritti, eh? Possiamo andare dritti per dritti, prendiamo un sacco di schiaffi e poi dobbiamo scendere al volo e correre come i raghi. Te la colli? Vabbè. Perché va pico, pico, p? Perché va c'è la picco, pico, p? Perché c'è la roba in mezzo? Sì, perché c'è l'ostacolo. Ah, questa qui va bene da passare questa incolumi? Le abbassate. Le abbassate. No, spari. No, spari. No, spari. Abbassate. No, spari. Abbassate, prendiamo. Ah! Ti ha colpito? Ah! Dai. No, spari. No, spari, signore. No, no, no. Doviamo uscire come dei draghi, velocissimi. Stai pronto? Saltiamo dal treno in corsa, quando te lo dico io, come un film. Ok, ok, ok. Perché rallenta? Non lo so. Mi sa che ho schiacciato io, ho sbagliato io. Allora, stai pronto, eh? Ci sono, ci sono, ci sono. Allora, quando trovi due cose saltiamo dal treno in corsa e prendiamo l'ascensore. A sinistra? A sinistra, a sinistra, pronto? Ok. Tre, due, uno, scendi! Vai, 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 vai! Prenotelo, prenotelo, prenotelo! Ok, posto, posto. Posto. A posto, se ne salvi? No, tranquilli, fratello. Ok. Tranquilli, fratello. Possiamo adesso arrivare sopra e dare allo zerg tutto il loot. Adesso diamo tutto il loot agli zerg, tranquilli, ragazzi. Non ci siamo salvati così tanto. Orkokan. No, ma davvero se sparano qua? Eh, dove sarà l'evento? Ma davvero? No, fratello. Dobbiamo fare i trottolini amorosi tutti da da da. Oh, sneaky, sneaky. O gli arrivo da dietro di martello pneumatico. No, bro. Corriamo. Non hai mai visto Forrest Gump? Non hai mai visto martello di pneumatici? Fa trrrrr. Non hai mai visto Forrest Gump? Gli arrivo da dietro e faccio frrrrr. Facciamo un bel cosplay di Forrest Gump. No, no, ma c'è arrivato. Piano, piano. Non fare rumore. Gli ripiano per non fare rumore. Facciamo qua, andiamo a sinistra. Da che parte è la? Arriva, 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 arriva. Ma ci arriva una laserata. Ok. Fuori, siamo fuori. Ci teniamo tutta la destra, beala. Passiamo per il mining outpost, fratello. Addirittura, così tanto. Via, via, via. Non ci interessa, non ci interessa. Possiamo andare anche a riciclare il mining outpost. Non sarà mica una zona di interesse, no? Non troppissimo. Abbiamo riattaccato il bandit camp a quel punto. Cioè, letteralmente, sono 20 secondi in più. Andiamo al bandit. Andiamo al bandit. Tanto dovremmo riuscire a tornare con un mini. Quanti scrappai tu? 172, ma ho un sacco di componenti. Anch'io, anch'io. Ma sì, scrappiamo. Sì, sì. Era l'ultimo cibo che avevo, disse Casey, sputando semi di cibo. Ho mangiato un fungo raccolto per terra adesso. Aha, aha. Ti ci vedo, eh. Ti ci vedo. Che cosa? Che sei pieno di cibo. Ma ti faccio assaggiare il tonno... Se è il livello di metaslug in cui mangiano e diventano obesi. Oh, hanno chiamato neanche troppo. Ok, sono online. Ho visto. Fratealei. Non vogliamo disturbarvi. Siamo soltanto dei passeggeri di passaggi. Madonna, siamo a moriamo... Eh, ci eravamo fatti una bella lutata. Con Nova. Sì, sì. Appena arrivo a casa, ammazzo Nova. Per cavallo. Fratealei, io ti voglio bene, ma io vado in salvo. Bastardo. Sayonara. Sayonara. No, sto spottando per te, guarda. Libero, 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 libero. Libero, libero. Tranquillo, ok. Puoi proseguire. Guarda, guarda che va abbandonato così del buio della notte. Libero, libero. Libero, libero. Non ti preoccupare. Casey, visto che sono da sole, si vede un po' male di notte. Accendo la torcia, va bene. La tengo accesa sempre. Sì, spara anche 5-7 colpi. Così spaventano i nemici e non arrivano. Esatto. Ci sta, ci sta. Quando sentono i rumori forti, scappano. Le vibrazioni. Quando sento le vibrazioni. Quando un serpente inizia a sentire. Sei immensamente Giulia. Il mio nome è come... Non l'ho mai fatta, stava tutto, ok? No, va bene. No, no, no. Non l'ho mai fatta. Non l'ho mai fatta. Mi siete sbagliati. È la priva. È la priva, è la priva. No, no, no. Non l'ho mai... Eh, l'ho spiegato prima, ragazzi, della Steam perché l'ho saltato. Comunque lo ridico domani, facciamo una live già chatting e ve lo spiego bene. Ticca, ticca, ticca. Non ci credo stava per uscire il 20. Se usciva il 20, ancora non avevo bettato. Io ne ho perso 800 scrap puntandoli sul 20. Eh, mi ricordo. Mi ricordo. Eri qua che cercavi approvazione di Bratane, eh? Sì, non c'è stata. Che fai? Ti rubo il loot, eh? Ti ho scritto Leonardo. Ti rubo il loot, eh? Ti rubo il loot. You can't steal my loot. Non t'azzardare o darmi il loot. Questa qui è la cosa più... trova cosa che potete fare su Rust. Quando c'è uno che luta tanto, cercare di spostarlo per prenderglielo. C'è il poker? C'è il poker. Vuoi giocare a poker? Ma? Ci sono anche le slot, bro. E contro chi giochi? E contro gli altri player. E cosa ce ne guadagna il casino? Niente. 100 scrap miei contro 100 scrap tuoi. Va bene. Vediamo chi vince. Sono il master del poker. A noi serve un sacco di stoffa, vero? Sì. Ok, ok. Che palle, mi sono dimenticato. Dei comprare i filtrini. Filtrini cotonu. Questi ritengo. Questi ritengo. Corpi semi-automatici, no? Il resto posso anche farlo. Butta, butta, fratello. Butta tutto, fratello. Rappi nel melano. Mi fumo giallaro. Quanti scrap? Io ho fatto settecento... Sessanta scrap il momento. Io no, io meno, io meno. Quasi 800 scrap. Io dodici. Ma che dodici? Dodici ne ho fatti. Vabbè. Trolli. Ma questo lo teniamo, dai. Ok, ho riciclato. Sono arrivato a quindici. Eh, vabbè. Aspetta, mi giro la sigaretta del pocherino. Intanto mi siedo. Vai, vai. Arrivo adesso. Mi giro la sigaretta del pocherino. E ti challenge al pocherino. Oddio, sedia da gaming? Non lo so. Se hai budget 200 euro, quella dell'Ikea. C'è una sedia dell'Ikea ergonomica. Mi pare da ufficio molto comoda. Sì. Ok. Ma alla fine quelli che volevano raidarci? Ci ho passati, sono scappati. No, non volevano raidarci. Pam! Vabbio secco. Vabbia, teo! Quanto sarebbe bello. Facciamo un bel... L'online raid? Magari. No, the new Twitch land. Bel serverone come era il Twitch land. Però solo con persone nate nel 94. Le la chiamiamo Twitch land 94? Sì. Tu quando sei nato, Leo? 94. Nova 94. Tu 94. Siamo tutti coetanei. Pazzesco. Mollu? Di che anno è Mollu? Mollu 2001? Ma come 2001? Mi pare di sì. Ma che cazzo dici? Te lo giuro. Ma va, dai. Ma sì, ma sì. Ma non dir cazzate, è 2001. È come Giscanto è 96. Vabbè, 96 è un conto, 2001 è un altro. Avresti mai detto che Giscanto è 96? Vabbè, 96... Due anni più giovani di te? Due anni più giovani di me, vabbè, ci può stare. Io non l'avrei mai detto mai. Ok. No, vabbè, più o meno sì. Vieni qua al di pocherino, dove sei? Avere il 325... Sono qua, sono qua, al tavolo da poker. E questo qua cos'era? Ah, io sono quello bello, il tavolo da poker. Quello vips. Allora, play. More player need? No. No. Vabbè, mettiamo tutto sul 20, capito. E sull'altra, cos'è che era questo qua? Qui me li faceva scommettere. Come te li faceva scommettere? Qui posso metterli 100. Ah, more player. Eh, chiede more player, bro. Sai che almeno in 3 bisogna giocare. Che palle! Calzerà il 5, questo. Vabbè, raga. Togliamo i 750 che serviranno per il mini. Tu quanti scrappai? 900. Vabbè, ma sei un chad. Sul 10 ne metto 100. Oh, dammene un po' allora. Perché io mi tengo i 750 per il mini. No, spiace, finiti. Devi metterli scrappi o puoi fare uno v1 a poker. Ho finito, ho finito. Chesi, non ne ho più. Dai, dammi. Spera nel 10 o nel 20. Spera nel 10 o nel 20. Hai fattoline? Spera nel 10 o nel 20. No, non ci credo. Sei un no ball se non hai fatto. Sono 450 sul 10, 450 sul 20. Aspetta. Ora guardo. Non ci credo. Vediamo quanto riminciamo. Vediamo quanto riminciamo. Apri, apri. Guarda. Aspetta, c'è il delay. No, è vero, hai trollato. Ho messo i 100. 50 e 50. No bubbles. Quasi ce l'ho dice. Perso di tutto. Perso di tutto. Metti 800 sull'1. Trust me. Perché? 800 sull'1. Perché diventano 1600. È matematica. Vai. Missi. Vai. Vero? O trolli? Trollo. Mettili, mettili, bro. Trust me. 800 sull'1? Metti 800 sull'1, bro. Ti ho messi, eh. Cioè. Ho visto, ho visto. Sto guardando la live. Ho visto. 800 sull'1. 800 sull'1. Ti avrei detto un 5, secondo me. No, è 1, è 1, è 1. Matematica, proprio. Lo leggo nel cuore della ruota. Faccio anche il balletto. Fai di balletto? Fai di balletto? Uga, 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 uga. Uga, uga, uga. Uga, uga. Oh. Ti ho detto, però, ti l'ho detto. A posto, a posto. Siamo ricchi, avantate. Siamo ricchi. È matematica, è matematica. Siamo ricchi. 1400 scrap. Siamo ricchi. Perfetto, ora mille sull'uno Basta Casey Mille sull'uno Casey basta Metti mille sull'uno Casey devi smettere Mille sull'uno Casey hai un problema serio Metti mille sull'uno Puoi tornare a casa da eroe O puoi tornare a casa da leggenda Che cosa scegli? Cosa fai? Vieni qua Adesso esce il 3 Mille Esce il 3 Mille Non uscirai mai l'uno di nuovo Ma mai Mille È uno È uno Stai parlando con un gambler professionista Guarda No No Casey ho perso mille scrap No No Tieni mettiti qualcosa di digno Beh si è di sporcaccione Esatto Drogati Uccidi Mi stiamo comandando Scusa Guarda Guarda che felice che è Guardalo Hello Hello What's your name? Wait I can't see Ma tu non hai l'asmat perché? Hello my friend Perché faccio prendere aria al pivo Ok va bene Ci sta Ci sta Non ha il microfono You have a microphone? Guarda adesso No abbiamo 400 Miei 400 tu hai? Tu ne hai Metti sul 20 bro È appena riuscito il 10 Dubito uscirà il 20 Sai che forse è un 1 in realtà È un 1 me sa bro Penso sia un 1 Metto 100 sul 20 100? Fai un link sul 20 bro Ormai Ormai 170 sul 3 E 126 sul 5 Vabbè Vabbè Mi fido alla tua strada Io ho 45 scrap Basta che non esca l'1 e il 10 Ma li hai buttati tutti i 750? No Ah ok Ok deve uscire Il 3 Il 5 Il 20 3 5 20 3 5 20 Sai che il 3 5 20 è fatta? È fatta eh Ok 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 3 5 20 3 5 20 3 5 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 20 Mini ce ne andiamo? Oppure potremmo comprare due mini No No Schesi Potremmo comprare due mini Schesi Schesi Compriamo due mini Forse ci vado Ah di niente Mona Dai fammi sapere com'è Buon appetito In caso Li lascio Li tolgo Li lascio Li tolgo Li lascio Li tolgo Chesi 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 Mi sei impallato tutto Sto laggando Spero 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 dell'uno Chesi È appena uscito L'uno Due volte Zitto Zitto Non parla Zitto Zitto Non vedo Non vedo Fermo Porco Care Chesi Porco Care Andiamo fratello Andiamo fratello Quanti ne esco Messi 750 Tutti quelli che avevo Sì Ok In caso Proviamo anche le slot E anche oggi Si torna a casa pieni domani Tutto calcolato Dio mio Chesi Dio mio Amante dell'adrenalino Lei signore È un uomo contenuto Butta Butta i 750 Ma compriamo due mini Ce ne abbiamo già una a casa in realtà Allora no Prendi una e basta Prendi una e basta Tipo ne scarpiamo Ne andiamo a gambare Cosa? Ti aspetto qua io No poi sei lì Se siamo in team insieme Oh 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 Ah 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 Possiamo andare a casa finalmente A me si è concesso Che non ci stiantiamo Da qualche parte Almeno così Non ci servono i proiettili Giusto? Aspetta che mi alzo un po' De quota Almeno Non ce l'ha Posso sparare Posso disparo Disparo in gamba Mi spari di gamba Cioè fai spararmi sulla gamba Provo spararmi un colpo sulla gambina Vediamo se me la prendi A destra dovrebbe essere il punto No No E con questo? Con le mili A destra sì mi sa Sì Sì Aiaia Pensa che è bello se adesso ci morivi A base nostra? Sì Sì è questa è questa Se ci morivi cadevamo malissimo Se sei un uomo continui a picconarmi la gamba No no Per l'amicizia no Cioè A quindi sei donna? Esatto Stai dicendo che essere donna è negativo? Complimenti Casey Complimenti No Bel messaggio stai dando alla tua Bel messaggio Casey eh No 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 Ragazzi Oh Aha Ok Perfetto fratello Ma con la base laggiù Quando è che va giù in decay? Ah la base dove ieri abbiamo messo le scale Stava dando in decay prima Facciamoci un salto Cosa? Quale è la base in decay? Eh Almente quella dove ieri abbiamo rubato l'elicotterone Sì Stavo per mettere il codice con il mouse Un grosso errore Questa devi aprirmela tu E quella lì Stava andando in decay prima Quindi non sarebbe male farci un salto Magari prendi dei colpi Prendiamo dei colpi Che così possiamo sparare E Boh Quattro stacce in croce Dei colpi che possiamo sparare Interessante Dei colpi Così possiamo sparare Senta Signor Leonardo Se lei non rispetta la grammatica Però la virgola dov'era? La virgola non c'era nel parlato Non la metto più L'ho smesso di metterla anni fa Se dice Prendiamo i colpi Virgola Se dice a voce Scusa Se non lo dice a voce Che dice? Se dice che dice Cosa dice? Io non lo dice Guarda Nova che bello Lo usiamo come cassa Nooo Lo usiamo come cassa Nooo No more cassa Che ha ucciso Nova? Ah Hanno ucciso Povero Nova Che ha ucciso Nova? Eh bisogna fare colpi mi sa No ci stanno però craftati Oh 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 Preso di sacchino Ok Andiamo 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 Cazzo ragazzi Eh Dobbiamo scoprire che ha ucciso Nova Allora Può essere un problema Solita notte da lupi Andiamo andiamo Vieni con me Vieni con me Ah Due sacchel magari Quattro Quattro sacchel Non ci stanno C'abbiamo un C4 Beh al massimo torniamo Lo prendiamo C'abbiamo l'exploam O i C4 Al massimo torniamo Ok ok Facciamo dei chad col mini Fammi prendere l'oggrade in più Che se dobbiamo fare i giri un po' strani Ah vuoi andare col mini Tanto è qua vicino È letteralmente qua N21 N21? Sì è qua sotto Andamolo No ma piotto È letteralmente qua sotto Aspetta però mi devo riparare il mini Il mini Devo riparare E vado da solo Me ne vado No me ne vado Basta Basta me ne vado Me ne vado No 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 Casi Per favore No no Casi E mi ci mangio i funghi E mi ci mangio i funghi Te mangi il fungo? Sì Un sacco di buoni Di funghi Di buoni Leonardo Mi mangeresti il fungo Ma al tuo fungo Farei tutto quello che vuoi No no Perché se Però no C'è trifolato All'olio in padella E voi ragazzi in chat Cosa fareste al fungo di Casey? Tiki 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 Ora se sei andato a raccogliere i funghi Sì Ma è un'attività che ti piace o ti annoia? Ah bello Da me si va spesso a raccogliere funghi Vabbè anche Giusto oggi mia mamma mi ha mandato una cesta di funghi Che sono andate a raccogliere Guarda chat che belli i funghi che ha raccolto la mia mamma Guarda che belli Eh di buoni La parte migliore è prendere la brisa Il porcino Farlo leggermente alla griglia con un sacco d'olio E poi metterlo sulla polenta calda Col formaggio fuso sopra Quello è proprio Quello è proprio Come? È proprio A casa mia lo facciamo mettendoci poi lo stinco alla birra Volevo ricordare che Leonardo ha un suo canale Anche Casey ha un suo canale Però non è quello di Leonardo È un altro Ma mi stai seguendo? Ok sì sì Allora so che da sopra si poteva entrare Vediamo se qualcuno ha già raidato Aspetta venga Sto arrivando E ritorno da te Senza niente da dire Senza tante parole Ma con in mano un fungo porcino per te Ma con in mano un grande fucile Mi sa Quello è un mini Ah no mi serve Prendi Hai qualcosa per farmarti la legna? No Fuck mi serve un sasso Perché prima ero riuscito a salire appunto con Con le impalcature Mi serve Tu non la farmi la legna No tu non la farmi la legna Mi serve un sasso Mi serve un sasso Ciao Leo bentornato Però ho dell'api Meida grazie mille Grazie del bentornato E grazie mille del resab Mi serve di pietra Vedi se andavamo col mini Non c'avevamo bisogno Vero? Ma tu no È passato qualcuno con un mini Ed è appena sentito l'esplosione di un mini Che si rompeva Ah mi sa che Si ritorna al band Meno 7.50 mi sa Come cazzo faccio? 6894 Qualcuno ha detto la sua password in chat Cosa? Uno ha scritto 6894 Appena detto il suo codice in chat penso Ah Non c'è da spottare una roccia Ma dai Ma bustandoci non ci facciamo Ah ma no no Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ok ce l'ho ce l'ho Avevo trovato della pietra per terra prima Me l'avevo dimenticato Bene Rompi questa Rompi rompo Adesso possiamo aprire il telefono La casa in caso Oh quelli là Wow due scrappelli ci hanno Quelli di Uno o l'altro Quelli di ieri? Sì Quelli che abbiamo Ebbene rubato le airdrop ieri Non hanno neanche le torrette ancora mi pare Ma questo mi sa che è raidata comunque No 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 Non è raidata Sta decayando La sto tenendo d'occhio Da Da un po' Da tutto di oggi Guarda 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 So Conosco questa casa Come i miei piedi Guarda La che era Fuck Ah no ok Era qua Perché penso che sia Ah no ok Anche da qua si può fare Ecco vedi Queste Queste sono tutte belle chiuse Queste sono da buttare giù Secondo me può esserci qualcosa qua dentro Però l'unica cosa che mi fa Un attimo titubare Tu sei mutato Non so se lo sai Ah ok L'unica cosa che mi fa titubare È che non ci sia niente su questo corridoio Quindi non so se hanno spostato il loot Però spostando il loot Prenderesti anche le porte Una regola si Ma magari Ma prendiamo l'ex plomo E buttiamolo giù Cazzo vuoi che sia Sono tre porte garage E una normale Questa non è da buttare Questa è il peak Probabilmente Questa è l'uscita Questo qua è il peak per salire No non è il peak E c'hanno il doppio peak per salire Scusami No Sta qua è un'altra loot Ah è vero Effettivamente sì Scusa sì sì è vero Hai ragione hai ragione Secondo me si fa splash qua in mezzo E poi si butta su sta garage qua dietro Sì sì Probabilmente Probabilmente ti sia qua Qua Ah è una Però c'è il mezzo piano C'è il mezzo muro No No il mezzo muro era su questa Qui c'è il mezzo muro Anche qua anche qua Guarda guarda qua Eh fai un salto a casa A prendere l'explo No non c'è Non c'è su quello Perché qui posso piazzarlo A destra A sinistra no Eh ma scusa Qui a destra sì I mezzi muri I mezzi muri Uno è qua E uno è qua Capito fratello Ma questo è mezzo muri eh Se mezzo è metallo Ah ok quello sopra Ok quello sopra sì sì Certo fratello Ok ok Pensavo che intendessi Che avevano messo magari Il triangolino all'interno Per fare il Ah 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 Per fare l'amore Sì Ehm Hai vogli fare un salto a casa A prendere l'explo Eh tanto prendiamo Explo e E l'ipottero O solo Explo Sì Ci serve anche un'arma mi sa Perché abbiamo tutti e due MP5 Sì serve un'arma per spararla Anche Aspetta io arrivo subito Mi devo dare due secondi Andare a due secondi Devo fare una roba Sì questa Questa No intanto inizia Che sì comunque Questa qui era per salire Non è un'altra Lutrum Quella sopra E c'hanno una doppia Way up? Non lo so No però potrebbe Ehm se che è una Lutrum Dici? Di due Cioè con solo due casse sotto? Eh ma magari Non le hanno finite Anche qua ai lati Sono Lutrum Ma non le hanno finite Vabbè vado a casa Prendo un semi Bene Va bene io arrivo subito Ok Due secondi Spero per te che tu non muoia Ok E andiamo a prendersi le munizioni Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Sat possibilità che casi muoia Quanto Quanto lo date casi morto Per me è un sacco casi morto eh Un sacco Veramente 80% casi muore Cos'è che fa lì di rumore? Forse 104% Non è una Cioè è un po' È un po' più del 100% Facciamo una bet? Vai fai una bet Fai una bet Yukin Vediamo quanto casi sopravvive Poi fra un po' stacco anche mi sa Che ho Le lasagne di Clara Che mi aspettano E una fame Porca Oh super mamma mia Sto veramente morendo di fame Vieni qua Se posso mettermi c'è un altro letto Ancora no? Ah non si scommettono soldi? Eh no Mi spiace Non Cioè se vuoi sì In caso torno e lo ammazzo Però Cioè Facci sapere Cioè se vuoi metterne Se casi muore Il nome qui sotto Diventa rosso Per chi non lo sapesse Quindi possiamo saperlo proprio Instant Quando succede Vedremo 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 Che si sopravvive Mi sa che è un no Cos'è quella roba Un airdrop Cioè andare Afk Su Rust Ma ci rendiamo conto Ma dove siamo capitati Ma con chi stiamo giocando Afk Su Rust Rust si gioca per 15 giorni di fila E non si smette mai No c'è di Ovorso brutto Allora il punto è Andare diretto sul TC E silare la base Quella è la parte principale Capire dove è il TC Essendo delle lutrum quadrate Il TC penso che sia sul mezzo piano E come diceva Casey Potrebbe essere su quello lì Ah il gioco Grazie dei beat Così A gratis Prendiamo l'Explo Non abbiamo un semi automatico Bisogna usare una K Non c'è qualcuno Che ha un semi automatico Magari K K Nova No mi sa che non c'è nessuno Che ha un semi automatico qua Che storia Paolo Grazie per il dodicesimo mese L'hanno assieme Grazie mille Bentornato Io voglio però Un semi automatico Che non esiste Non ce l'abbiamo Non ce l'abbiamo Si va di a K Mi sa che si va di a K E niente Ah non mi piace mai Uscire con una K Ok A K Legno Tc Metallo Craftiamo Una porta Craftata Che bella porta Che bella porta che ho Voglio questa porta E crafto Posso lasciare questo qua Questo me lo porto per fare I piani per salire Le amo Ce l'ho Magari prendo un po' di Cloth Se lo trovo Penso qua sotto Ok Che mi ci faccio Un letto Altro che può servirmi Questo butto Questo butto Questo butto E boh Andiamo a sperare Per il meglio Lai nel team Nel momento Io Leo Io Leo e basta No no non c'è Leo Ah non c'è Leo Quindi sono io Si Solo io No Giacomo mi sa che arriva dopo Mollo pure è andato a mangiare Ma sono andati a mangiare tutti Mi sa ragazzi Arrivo di che si Va bene Vieni col mini O vieni a piedi No sto venendo a piedi Ok Secondo me Mini è un sacco Che non lo guido il mini Non mi ci fido Ah E' un insicuro Arrivo Mi ci schianto E tu fai Ecco inizi a distruggere i mini Come Nova Sei uguale a Nova E non E non voglio Non voglio questa situazione Né per me Né per te C'è Ti avrei dato del Nova Tranquillamente Quando Quando C'è Capito che è un'amicizia Quando partono insulti così pesanti Se hai in situazioni così Vero C'è È un po' brutto Non vorrei mai dare del Nova a nessuno Comunque non c'è il semi Ho dovuto prendere una K Ah va bene Mi sa che con una K Non ci spariamo Tutto quello che ci dobbiamo sparare È un nudino No c'è uno nudo Dici che si rompe prima Ah ma ci abbiamo la repair Porta dell'HQ E della legna Ah fuck Sono già qua Oh no Fratealo Vabbè al massimo torniamo dai Sì sì va C'era un nudino Che è sopravvissuto Ragazzi mi raccomando Anche nella vita vera Se vedete persone in giro nude Per strada Non sparategli Perché sono appena spawnate A meno che non state cercando Di fare il ride A casa di qualcuno Che sì anche tu devi insegnare Alla tua chat Ste cose Sì hai ragione Non li ho mai Questi tricks sono troppo avanzati Per me Eh c'è Effettivamente Ma ti ricordi I brutti tempi In cui c'era un limite Di letti Che potevi mettere Sì Mamma mia Veramente brudo Ma? 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 Mi busti? Sto avendo dei problemi Come ti busto? Cioè già non basta Che ti busto Su Valorant Su League of Legends In più 452 5 Eh direi Questa Con quale iniziamo? Allora fratello Ti è se 100% Ti si Qua a sinistro Credo Credo Però spacca qua Che a me Iniziamo a fare queste due garage Due loot Allora secondo me il TC è qua Non c'è qualcuno fuori? Magari l'hanno di prima Ah è il naked Non voglio naked Nel game Allora secondo me È qua Perché è tutto ai quality Qua sotto invece È in Cioè Metallo normale Perché dovresti lasciare il TC Con il metallo normale Perché sei sbagliato Dici? Perché sei sbagliato Comunque quale faccio? Faccio queste due magari? Sì sì Iniziamo a fare queste due Che iniziamo a fare queste due Può essere che Sia anche lì a sinistra LTC Oh gente 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 Wait 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 Gente Mi ha distrutto Dov'è? Fuori 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 Eh fuck Aspetto aspetto Eh devo aspettare E beiitarli Sì sì Tanto se entrano Dovresti laserà Io arrivo da dietro E me li magno Ero in un pic de merda Devo vedere che scendono Sono sopra Fuck Si stanno sparando qualcuno Ok sta arrivando Devo giocarmela Alla fine che si è morto Aveva ragione chat Penso li abbiano uccisi Penso li abbiano uccisi Ma io sta arrivando da fuori Ammazza tutti Penso li abbiano uccisi Ma sta cercando di capire dove No Quel cazzo che li hanno uccisi Tranquillo fratello Allora arrivo Due Due persone Manca un quadrante Ah come cazzo Faceva a vedermi Mi ha visto i piedi Sei morto? Sì Era nascosto in un angolino Mi ha visto i piedi Sono entrati? Sì sono sopra Uno è sul tetto Uno è dentro Fuck Ora hanno il tuo K Eh sì Prendi un'arma Eh sono spuntato qua vicino Una a terra Una a terra sotto Una sopra Sono due sopra Tre sopra Li vedo Li vedo Quattro sopra eh Penso perché erano Quattro? Penso quattro sì Oh my god Esatto Mi ha ucciso Non c'è neanche cosa Prendere di arma Aspetta Poi ce la posso laserà No La laserà Non ce l'hai fatta? Che storia! Prova ad arrivare Da casa Cioè Da casa Ma porca cale Che sfiga Neanche ho usato Un caricatore Ah sono tanti Porco Due Stanno già Puscia Dobbio case Uno No forse era una Quanti sono bro? Tretto che sono Metà di mille No quanti sono? Quanti erano? Tanti Uno due tre Quattro At least Cazzo De zerg di merda Ma non l'ho fatto Dopo che essa Quello rega Allora Neanche senso tornare Quanti Quanti Explom avevi? Eh le ho prese tutte You player Sì le ho fatto WHS bro Fuck Eh vabbè Ricrafterò io lo zolfo No ma sti cazzi Non è un problema Quello L'ho preso I tre stack Cos'era Che c'erano in base Ed Stomach Bro L'ho fatto WHS Ma sono un pirla Scemo Di merda Basta È ora di andare a mangiare È ora di andare a mangiare Cosa hai fatto? Sono caduto da casa E mi sono schiantato Per terra Morendoci Devo Devo andare Devo andare Devo andare Mi sono perso la sub Chi l'ha fatta ragazzi? Mi sono perso la sub Scusatemi Ma ci abbiamo un k In casa? Due Stanno provando a spaccare il coso Io ci tornerei Eh È da capire come arrivarci 40 secondi Non ci abbiamo un bolt Che ti metti col boltino da lontano Melì Sai che forse un bolt ce l'abbiamo? Fammi vedere Io 30 secondi a rispondere Che sì Sono caduto da casa Sono morto Sono spuntato nel letto Sono tornato Mi hanno lootato Un Thompson Our game Our game Grazie per il sub Ma ci voglio tornare a questi Però Però No Io sono spento Casey No Se vado queste putterate qua Non faccio un fight Di cosa hai paura Di cosa hai paura? Oh c'è anche un bolt Va bene Me li challenge io No problem Sei fuori tu? Mi sto giriando È uno fuori È quello col mio È fuori quello col mio Thompson Ci campera Sicuro Ciao Arrivo Gimmi a sec Eh lo faccio a prova Dal tetto A ucciderlo C'è Da infami però Ho già perso Troppa roba Abbiamo un cazzo De laser Ma non ci credo Ma sono C'è proprio Scemo pirle Oggi Ah se perdo Anche questo qua È un alt f4 Secco Ma dove sta questo? Sta fuori Camperà? Ho visto Ho visto È verso 3.50 Dietro quella roccia Preso in testa Dove sta? 3.50 Dietro quella roccia L'ho preso in testa Pusho Ok Almeno ho ripreso La mia roba Pabbo di minchia Che sono Vado da quelle scimmie Me lo sento Il clash Me lo sento Hai anche Il bolti Dai provo io Col bolti A venire Sapete due secondi Che Aspetta fammi dire Che magari hanno Anche lì vado Non c'erano troppi È la casa Quella lì vicina Secondo me È l'unica Ma vai bro A uno Gli ho fatto Bro Gli ho fatto Doppio HS Body E mano È rimasto 10 HP How? Sei già per strada Ok Guarda qua È dead stomach End 10 HP C'è No Yukin penso che stacco diretto Perché vado a cenare con Clara Che ha fatto le lasagne apposta Sono quasi pronte Quindi appena mi dice che sono pronte Stacco e vado Casi aspettami un attimo che ti sto raggiungendo Se mi lasci il bolt Sto guardando Sto guardando se sono ancora qua Ok Non sento più Cazzo ma c'ho anche un orso Ok Dici che hanno lì vado Dici che hanno lì vado bro Ma passavano le explo per tutte le porte O no Ne facevi due sicuri Due quattro Quattro riusciva a farne Quanti esplomo erano? 120 240 360 Ah Tieni bro che borò più dentro la cazzo Era io che sparavo un ladino Che non andasse da questa Vabbè Non ha il laser il bolt quindi Però penso che Se ne siano andate Se no si sarebbero affacciati Aia Ok si si è rotto un ginocchio Tieni Dove me l'hai lasciato? Ok lì Ti ho buttato neanche i colpi? Ti ho buttato? Che cazzo Perché non me l'ha tirato su? Non trovo i colpi Che si Ti ho buttato lì in parte Sacchettino Guarda ti stai saltando sinistra? No indietro indietro perché? Che cazzo sono i colpi che non li vedo Che si ma mi stai perculando? No no Li vedevo guarda Vedo la sacchettina Dove sta? Sta finita? Sei sicuro che non li hai presi? Si What? Bro vedevo la sacchettina L'ho vista per un atto Quanti me l'avevi lasciati? 60 Ma? Ah eccola qua trovata Ok Era mezza Era mezza Nella terra Metti sulle rocce Io provo a pushare dentro Magari c'ho uno camperato Magari non ribassare le cose Quanto è che ne avevi portati? Che non mi ricordo Come hai detto? 360 Oddio Sono 150 gara C'è? Appunto Sì Ah però Veramente lo splash damage Eh sì appunto C'è con quella Vediamo Boh non mi butto dentro A cazzo del marmo Eh quelli lì sono Una casetta bella grossa Non so neanche se fossero loro Sì Ha visto dove sono arrivati Io ero morto sotto Lì all'entrata Appena sotto Dove eri morto te Niente? Cazzo c'era roba Non ho disponato roba a terra Ma mi sa che c'era roba De merda Quindi per quello Tc che hanno Non ho trovato il Tc Il Tc Non ho trovato il Tc però Eh non so se c'era roba di merda Che ne sai Magari tutto dentro il Tc bro Il Tc era quella garage Quella isolata Quella che c'aveva il metà Cosa Però famola 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 E con cosa? Non c'è più niente a casa? Eh un C4 E basta? Eh sì Fucker Avevamo giusto quelle Tre stack di munizioni E il C4 Oh That's bad O li proviamo a baitare Per farli rivenire Eh sarebbe anche un'opzione Guardate Fammi vedere quanto manca Eh ancora un sacco di qua Eh sì sì Allora io mi sa che stacco Perché sto morendo di fame Che non ho neanche pranzato Va bene va bene Quindi Vado a casa Ci muoio lì E me ne vo Tu continui? Ok allora ti faccio un raidino Al vicino Va bene Yukin Me lo fai già adesso? Dai che chiudo E poi ti saluto Anche la voce Buon Ciao Casey Ciao bello Yukin se puoi prepararmi Un ride per Casey Così mentre vado a casa Stacco Stacco l'attimo Perché senza pranzo Sono bello fuso Non avevo pranzato oggi Che mi sono alzato tardi Eh Direi che Rust Magari qualche altra sera Lo porto Perché da giocare È un tanto che non lo giocavo E mi mancava un po' Quindi volentieri Me lo riporto Ehm Prossime volte Adesso domani facciamo Just chatting E vediamoli più avanti E vediamoli più avanti cosa fare Magari qualche format nuovo Qualcosa del genere Vedremo Penso di tornare con le live Non so se giornaliere Penso che farò magari un giorno sì Un giorno no Adesso vedo bene E niente ragazzi Detto questo Vi saluto Mi auguro buona serata E Yukin Quando vuoi puoi andare con il ride Muà Buona serata Parta pure di ride Vada Grazie Yukin E' simile per il ride Bello Di niente Grazie caro per il ride Eh Hai mai avuto qualcuno Che ti ride E ti dice di niente Subito nel momento esatto Dopo Mai Eh Dove lo trovo Una volta Prima volta C'è uno fuori casa Gli sparo Sparagli Sparagli Ok Buona Io muoro qua Magari Gli do questa a lui Buona Kesi Ci vediamo più tardi Va bene Cronologhi Simeone Non lo so Penso tardi